Vincenzo Accardo, presidente dell'Associazione Marittimi per il Futuro, sono 11 anni che la cassa marittima a Torre del Greco è ancora chiusa. Ieri avete voluto ricordare questo fatto in maniera ironica. Molto ironica, abbiamo aperto una bella torta di più di 5 chili, abbiamo festeggiato perché tutti quanti a casa si fanno i compleanni e ho deciso di fare un bel compleanno fuori a Cesare Battisti, perché sono la bellezza di 11 anni. È stata una cosa ironica, un dolce per noi, ma amaro per chi è che ha gestito questa cosa più di 11 anni che ancora è chiusa. Ma non erano solo questi punti, i punti sono tantissimi che sta passando il marittimo con l'USMAF, la cassa marittima. Vi porto un esempio, su Olbia ci sono la bellezza di sbarco tutti i giorni delle navi, ci sono la bellezza di 10 navi nel porto di Olbia. Se un marittimo nel pomeriggio si sente male, dovrebbe andare a farsi una visita alle due, non ci sono più medici, ci sono solo due medici perché dicono danni straordinari o perché non voglio mettere il pomeriggio. Questo è vergognoso. Io penso che il dottor Sazzana deve prendere subito una posizione e chiamare anche dei medici, minimo un paio di volte alla settimana, anche di pomeriggio, dare assistenza. La bellezza perché si sono medicina, vogliamo fare 60 persone, ci sono 600 marittimi nel porto di Olbia tutti i giorni. Ogni momento può succedere qualcosa e devono avere il diritto alla salute per tutti quanti e vogliamo il diritto alla salute. Che significa avere la cassa marittima chiusa? Significa disagio. Il marittimo deve andare all'USMAF, la cassa marittima deve andare a Napoli e deve fare 13 chilometri. Deve trovare la circonfe sioviana pronta. Se il signore parte perché qualche volta viene sospeso, ci vuole una giornata e poi deve fare una fila per prendere del medicinale per vivere per la vita sua. Poi abbiamo la problematica che sta riscontrando dal 24 gennaio per tutti questi marittimi del turno generale. Significa che il marittimo del turno generale prima andava dal medico di famiglia, il medico di famiglia lo controllava, gli dava dei giorni, andava in cassa marittima, timbravano quella certificazione e li mandavano direttamente all'Inves. In tutto questo, quando è arrivata la pandemia, tutti quanti sappiamo, sono sbarcati tutti i marittimi da sopra le navi. Si è fatto un assemblamento fuori alla cassa mette di Napoli e all'epoca si prese con il prefetto di Napoli, urgente di tutti i marittimi di andarsene, proprio dei medici non potevano andare più in cassa mette per l'assemblamento. L'Inves rispose, noi con i certificati cartacei non paghiamo ai lavoratori. Il prefetto fece un'ordinanza urgente per motivi sanitari, per il problema sanitario che c'era l'emergenza, l'Inves ha pagato questi certificati. Ma ci sono messe tre anni, il 24 gennaio di quest'anno, l'Inves ha mandato una letta condicendo che dal 26 gennaio tutti i certificati che sono cartacei non verranno pagati. Li vogliono solo che i medici li devono trasmettere telematicamente. In tutto questi medici si rifiutano, dicono che non è l'ora di competenza, che hanno una causa con il Tarra e il Lazio. Il SAS dice non devono venire da me, ma devono andare dai medici di famiglia. L'Inves dice io non pago a nessuno se non mi manda i telematici. Carissimi telespettatori e tutti, qua stiamo parlando, io parlo dei malati oncologici, di che un turno generale ha avuto un infarto, ha avuto una problematica seria, significa che questi qua hanno bisogno di vivere, di avere dei soldi per comprare medicinale e andasse a fare dei visi. E' inaccettabile che ancora tutt'oggi, l'unico che si è mosso ancora per il momento è il sindacato UGL che ha fatto anche un presidio alla prefettura di Napoli, condicendo di chiamare vari tavoli tecnici per far capire cosa succedeva. Questo l'appello lo faccio ai sindici di Torre d'Agrega, anche ai sindici di Ercolano, proprio condicendo, guardate, avete delle problematiche serie dei malati oncologici, malati veramente che hanno bisogno di portare i soldi a casa per farsi queste visite, ma nessuno si può lavare le mani. E' inaccettabile il 2023 che un marittimo non ha uno sportello per andare a vedere la sua situazione di una pratica. Il mese prossimo qui a Torre del Greco si andrà a votare qual è l'impegno che stanno assumendo i candidati a sindaco di questa città nei confronti dei marittimi. Noi vogliamo i fatti, noi vogliamo una città pulita, noi vogliamo una città di sicurezza, noi vogliamo una città che noi possiamo vivere di turismo, noi vogliamo una litorania, un mare che io non devo andare a portare i bambini, non voglio le fogne che scaricano ancora a mare. Vito a tutti i cittadini, fate attenzione, votate veramente chi credete, le persone oneste, perché io qua è difficile andare qua. Vogliamo una città veramente che i figli nostri devono stare tranquilli, noi dobbiamo avere paura di niente.